ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi mi è arrivato un pacco da amazon utile per queste cose qua consigliato da un amico l'ho comprato eccolo qua martello cinetico adesso lo apriamo e lo proviamo qua ci sono tutti gli adattatori praticamente questo martello cinetico serve per poter togliere l'ogiva dal colpo da poter disinnescarlo adesso vediamo si apre qui ok bisogna trovare il calibro giusto questo è un po largo proviamo con questo ok una volta messo dentro questo affarino qui che va a bloccare il bossolo l'ho messo qui così chiude si dà un colpo forte vediamo pronti ok qui sopra non funzionava perché devo battere un po più forte del solito vediamo adesso basta svitare qui ok il bossolo si è staccato l'ogiva si è staccato eccolo qua perfetto ecco ragazzi questo era il martello cinetico e ve lo consiglio 25 euro su amazon una farone alla prossima ciao ciao